La formichina e le sue amiche ripassavano sotto il grande alto e sentivano la città e le sue amiche che cantavano come se l'inverno non dovesse mai arrivare. Un pomeriggio di festa, tutto dedicato ai bambini. Al palazzo Boncompagni di Arpino, Veronica Maia e la musica dei solisti del Millennium Ensemble raccontano le favole di Esopo, emozioni, magia e tanto divertimento, l'occasione migliore per festeggiare il carnevale. Giriamo l'Italia, anzi devo dire che il gruppo è stato anche in America, incontriamo bambini con le loro famiglie, con i loro genitori, zii, nonni, perché poi è uno spettacolo adatto a tutte le età e li incontriamo nelle scuole, negli auditorium, nelle piazze per portare la bellezza della musica e delle favole a questa fascia d'età che è la più tenera, la più ricca e quella che dà la risposta più bella a questo genere di linguaggio che non dovremmo mai dimenticare. Con i Millennium Ensemble, con questa bellissima associazione che è un po' la mia seconda famiglia artistica, ci premuriamo anche di fare delle attività sociali sul territorio che abbiano senso, che abbiano importanza. Incontriamo i bambini nei loro reparti di pediatria oncologica molto spesso per portare anche lì un momento di conforto, di bellezza, un abbraccio in musica e non solo. E recentemente abbiamo anche incontrato dei detenuti nel loro momento di incontro con le famiglie, con i loro figlioli e anche quello devo dire è stato un momento molto emozionante ma anche molto utile perché ha portato un momento di amore anche in un contesto dove magari sembra più difficile che di amore si parli. Con la musica e con le favole si possono raggiungere anche questi obiettivi apparentemente difficili e invece molto belli e molto ricchi. Il divertimento dei bambini attraverso le favole e la musica. L'appuntamento di Arpino rientra in un ampio progetto ideato, prodotto e promosso dall'associazione Assoflute nata nel 2006. L'obiettivo era quello, attraverso il racconto delle favole, di educare i bambini all'ascolto della musica e soprattutto alla conoscenza degli strumenti musicali. Infatti in queste favole è molto divertente il fatto che gli strumenti imitano proprio degli animali. Nel corso degli anni abbiamo prodotto diversi progetti, uno tra questi è proprio questo sulle favole di Esopo che vede la musica composta dal compositore Salvatore Schembari e gli acqueredi realizzati dallo stesso compositore. Negli anni poi siamo andati avanti, in di recente produzione abbiamo prodotto un altro progetto dal titolo Le Fiabbe dei Fratelli Grimm con i musicanti di Brema e Principe Ranocchio. Un modo per divertirsi in famiglia, un modo per far divertire i bambini con la musica anche giocando, magari ascoltando il carinetto e l'obboe che possono imitare il raglio dell'asino o l'ancia del fagotto che può imitare il verso del gallo oppure la risata del pastore. Ecco, con questo progetto noi andiamo nelle scuole ed è tanta l'attività che promuoviamo sia in Italia che all'estero.